mi piace ragazzi ehi ciao sono la ninja lasciatelo anche che bello ciao a tutti ragazzi siamo Rebby e Molly vi piacciono i babybell perchè oggi faremo un video pieno di formazzini ciao sono babybell creeremo tante pazzine, personaggi o tutto, un sacco di cose solo con i babybell però voi ragazzi dovete lasciare almeno almeno 2000 mi piace lasciate un bel like guarda Rebby sono un triccheco ciao Molly allora via con la sfida 3, 2, 1, via aspetta, aspetta, te cosa fai? io faccio un ninja wow un ninja ok io ho un ombrellino un ombrellino eh si con le cannuzze ma Rebby ma non si può fare l'ombrellino con il babybell ma guarda quante cannuzze ma guarda quante cannuzze vabbè io comincio eh ok ok non so nemmeno come si apre come si apre questo coso? apriamo questo babybell 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 guardate com'è rosso ragazzi che carino ecco adesso apro il babybell qui ci sono anche degli occhietti finti guardate ragazzi guarda che belli gli occhietti di zucchero tagliamo questo babybell allora per fare il ninja Rebby è semplicissimo basta fare così vuoi vedere wow basta fare così si tiene qua e qua andranno messi due occhietti oh ho beccato due occhietti un po' stupidino oh che bellissimo così ecco qua no ma ragazzi ma è bellissimo il ninja di Molly guarda mi piace ragazzi e ciao sono un ninja lasciatelo anche che bello guardate è bellissimo bravo Molly dammi cinque e ci ho messo veramente poco io sto facendo gli ombrellini quindi questo è il ninja vi piace? mi piace il mio ninja è carino io invece sto facendo gli ombrellini ecco guardate ragazzi ho fatto due pezzettini due adesso posso provare a farne uno? si vai no farne uno io lo faccio giallo guarda la cannuccia lo facciamo ok allora bisogna prendere la cannuccia così guardate ragazzi come? così guarda così ok poi la tiriamo ok guardate ragazzi la tiriamo così e poi? e poi si fa così ok ci fa una curva diciamo esatto una bella curva una bella curva poi ho perso le forbici le forbici sono più le ho fregate io ah grazie ecco adesso abbiamo la nostra cannuccia e la tagliamo proprio dove finisce ah proprio lì qui ecco qua oh passami le forbici vai io la taglio qua la taglio qua bravissimo ecco fatto e dopo? adesso la tagliamo anche un pochettino qua perché se no è troppo dura guarda la mia cannuccia è storta eh ma la devi tirare un pochettino che cavolo mi hai sabotata Rebi no ecco guarda adesso è dritta anche la tua ok perfetto poi la taglio qua hai detto oh ecco poi e adesso infiliamo il nostro ombrellino guardate oh ecco ole guardate che bello ombrellino piove sta piovendo Rebi ehi mettiamo l'ombrello sta piovendo mi piace l'ombrellino ragazzi ecco l'ombrellino è molto bello questo ombrellino Rebi ti piace Molly? si si guardate che bello un ombrellino attento ninja sta arrivando la pioggia non ti preoccupare c'è l'ombrello ok ragazzi adesso io voglio fare una coccinella la vuoi fare anche tu Rebi? si facciamola insieme facciamo due coccinelle e quella che vince sarà la miglia ovviamente chi vince mangerà un baby bell allora posso anche mangiare tutto il sacchetto ok per fare la coccinella apriamo apriamo tutto il baby bell tutto tutto va aperto tutto 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 ok tutto ecco qua quindi tutto così eh tutto anche di qua poi lo apriamo così si apriamo così ok ecco qua non l'hai tutto rotto non l'ho rotto si ti l'hai rotto no lo sto dall'alete ecco così ecco e adesso si fanno le alete così guardate eh lo apriamo un po' così lo spaccinello ok adesso con l'uvetta l'uvetta passa ma l'uva che passa l'uva passa ma non saluta ma non saluta che maleducata questo uvetta la battuta è un po' pessima è una bellina dai io gli metto la testa qui in mezzo facciamo la testa e la metto qua poi con gli occhietti gli facciamo tutte c'è anche la colla Rebi ah la colla esatto si possono incollare gli occhietti con la colla allora mettiamo la colla così speriamo che tenga proviamo allora uno qua fa ridere sembra che ha un sacco di occhi Rebi eh eh adesso glielo mi metto ehi non ti fregare tutta la colla dammi un po' come me ehi mi sono tornata un po' gli occhietti aspetta faccio l'ultimo ecco ragazzi stiamo facendo tutti i puntini alle coccinelle con gli occhietti ovviamente è difficile eh si però stanno venendo molto bene guarda anche la tua come è bella oh carina si ehi mi serve a me cercavo di distrarlo ma questi occhietti si possono mangiare? eh direi proprio di no Rebi scherza sono con lo zucchero certo che li puoi mangiare sono con lo zucchero sono occhietti di zucchero sei pronto Mori la mia coccinella è quasi pronta e aspetta occhio che vola via no 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 aspetta ho quasi fatto ho quasi fatto ecco la mia coccinella mi piace ragazzi ecco ve la faccio vedere bene sembra un po' un alieno eh però è una coccinella ma è un alieno quello ragazzi mi piace la mia coccinella? no 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 sembra un alieno un alieno venuto dal futuro per distruggere la Rebi ciao amico alieno ciao amico alieno sono degli alieni abbiamo fatto degli alieni ok ragazzi adesso proveremo a fare delle faccine dei mostri con i baby bell allora io adesso farò il mostro più spaventoso di sempre il mostro di Loch Ness il mostro di Loch Ness quindi io tolgo tutta questa parte qua tutta? oh oh no no tutta questa parte qua perché questa qua sotto guardate questi sopra saranno i capelli nel nostro mostro io invece li tolgo solo questa parte qua perché farò un vero mostriciattolo adesso vi faccio vedere ecco ragazzi gli ho tagliato un pezzettino e adesso glielo metto come orecchie o come corna guarda Rebi oh che bellino ho fatto la mini persona ciao ragazzi che bellino fagli la bocca come faccio a fargli la bocca oh così mi è venuta un'idea con la carrossa gli faccio un buco qua ecco guarda guarda la bocca che bellino ciao ragazzi come state ma facciamo anche un copertino bellino adesso arriva anche il mio mostro ci metto un pochettino ehi Nizza tutto bene? sì sì tutto bene ma sai che noi siamo molto più belli di quelli che sta facendo la Rebi ehi non è vero adesso arriverà anche il mio mostriciattolo dopo ridete di meno Rebi adesso ne faccio un altro perché tu sei molto lenta ehi aspettami il mio mostriciattolo sta venendo molto carino ecco è pronto guardate ragazzi mi piace il mio mostro è bellissimo Rebi è un piccolo mostriciattolo ha anche le orecchiette vi piacciono? lasciate un bel like per questo mostro ecco sono pronta molline faccio un altro anche io un altro vai ma sai io cosa sto facendo? cosa sto provando a fare? cosa provo a fare? il conte Dracula il conte Dracula? voglio provare a fare il conte Dracula wow bravo è molto difficile però che è difficile ecco ragazzi sto facendo la bocca di un altro personaggino ride già però non ha gli occhi oh il mio bellissimo Rebi wow il mio bellissimo ecco ragazzi guardate ho un occhio solo è un mostro un po' bruttino con un solo occhietto ma guarda io questo che cos'è? il conte Dracula ma che bellino il conte Dracula ragazzi è bellissimo sono un pepistrallo molto felice ecco ma gli sto facendo un altro mostriciattolo ma fai solo i mostri tu? si mi piacciono i mostri c'è un mostriciattolo anche tu? un mostriciattolo io provo a fare una specie di formica adesso posto una formica come fai? eh faccio un sacco di gandina così proviamo ecco dammi una camioncetta wow bello il sole che tramota sul mare ragazzi io ho fatto un alieno veramente questa volta guardate oh vabbè un sacco paura Rebi vi piace? vi guarda se mettete i like da tutti i punti adesso il mio sole è diventato un mostro che vi guarda ma è bellino non è un mostro guardate ragazzi tutti i nostri personaggini fatti solo con i Babybel vi piacciono? sono bellissimi eh quale vi piace di più? scrivete quale vi è piaciuto più di tutti ragazzi eh? vi piacciono? ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un commentino un like se non siete iscritti iscrivetevi subito da me e la Rebi è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao